Si è svolto nella sala Giorgio Costantinides del Civico Museo Sartorio, anche in questa occasione davanti a un pubblico piuttosto numeroso, il secondo degli incontri pubblici tematici della giunta comunale guidata da Cosolini con la cittadinanza in vista del report di mandato 2.13. Questo nuovo appuntamento, dedicato al tema cultura e turismo, volano per la città, ha visto quali protagonisti gli assessori Franco Miracco e Di Kraus. L'incontro come gli altri di un ciclo proseguirà fino alla metà del mese. Ha aperto l'assessore di sviluppo economico Di Kraus che ha intradotto, ponendo come dato di base l'alto grado di soddisfazione manifestato dei visitatori che giungono nella nostra città. In questo quadro, proseguito l'assessore, è cresciuta anche la capacità ricettiva con significativi aumenti nel decennio 2004-2013. Per quel che riguarda invece tra gli obiettivi principali in futuro, l'assessore Kraus ha indicato un ulteriore rafforzamento e miglioramento della promozione attraverso l'ente di promo Trieste. Per quel che riguarda invece i grandi eventi, i prossimi saranno Barcolana, Bavisella, Trieste Next, fino all'auspicata tappa finale del prossimo Giro d'Italia, che è già fissato il gran girone finale del campionato mondiale di pallavolo femminile, che si terrà nel 2014, nel mese di settembre. Collegando, come nelle premesse dell'incontro turismo e cultura, l'assessore Miraco ha quindi svolto un intervento di ampio inquadramento dell'attuale condizione della cultura Trieste e delle sue istituzioni, nonché sulle principali necessità per una sua migliore organizzazione e rilancio. Un'analisi che è partito dalla compensapevolezza di possedere come città molti scrigni preziosi, fin qui poco valorizzati, come ad esempio il Museo Orientale, che però almeno noi abbiamo recentemente riaperto, mentre in città ben più importanti come a Venezia, collezioni simili, giacciono nei depositi e molte attività specifiche, nel tutto peculiari come i piccoli musei e le diverse iniziative dedicate ai grandi della letteratura del Novecento. Il Museo del Giocimento, poi, o quello di Stolipatia, per non parlare delle condizioni che oggi sono poco più di un fantasma. Molte buone cose si sono fatte, il gradimento ai cittadini turisti lo sta a certificare delle riuscite espositive come il Gopcevic su Trieste 1913, Museo Casa Mia, ancora la Resia di San Sabba e forte interesse di scoperta di avvicinamento delle sede culturali cittadini e l'allungamento dell'orario, nonché anche le minoteche, sempre più affondite. Per quel che riguarda, poi, la grande mostra sulle testine, bisognerà organizzarla e svilupparla nel Museo del Mare, struttura nel Sole dell'Incanti, un vero e proprio museo della scienza. Per Miraco, inoltre, martedì scorso, nell'affollato salone del ricreatorio Pitei San Giacomo, era stato trattato il tema di Trieste, città delle persone. Continueranno avanti l'incontro il prossimo martedì settembre, alle 17.30, nella Sala Generale del MIB del Ferdinandeo, con Umberto Laureni e delle Damarchigiani. Grazie. 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 Grazie.